È particolarmente interessante il libro di Eliana Giotta, l'età non è uguale per tutti ed è un argomento di quelli che in parte ci fanno sognare perché sono quelle idee in cui noi tutti vorremmo pensare e credere, cioè come allungare il nostro equilibrio biologico, la nostra vita. So che molti di voi, anche un palo solo per amici della mia età, sono qua sperando di trovare la ricetta e la ricetta della giovinezza. Ma di solito avviene così, si esce dalle presentazioni con 5-6 anni in meno. Minimo, minimo. L'ho visto ovunque in tutte e tante. Poi avremo qui... Anche di più, anche di più. Eh, lo conferma anche lui che è medico, vedrete. Sì, ma lei vedrà poi il nostro professore che porterà i saluti dell'amministrazione, che è un esempio vivente. Lui ha 90 anni, è giusto? 70. 70. 70, 70. La parte banalizzazione, il libro è serio, è estremamente piacevole, poi i relatori sono qui per presentarlo. Io sono, dico, un profano, un ignorante di questi temi, non sono mai stato molto appassionato, lo dirò, di fronte a questi argomenti sulla dieta, li ho sempre, mangio abbastanza bene, però senza informarmi. Io sapevo, lo riprende anche nel testo, sto detto che noi siamo quello che mangiamo, ce lo diciamo sempre, ma io collegavo il discorso al fatto che se mangio bene, sono un po' più in forma, muovo meglio. Invece per me la scoperta è che ho capito che il cibo influenza il cervello, cioè quello che siamo qui, e questo per me è stato una rivoluzione copernicana, cioè mi ha fatto molto, intanto, da un punto di vista salutare, mi ha fatto bene leggerlo. Cioè io a posto dico e lo consiglio a tutti perché è un libro che fa bene al corpo e alla testa, in modo incredibile. mi ha aperto dei scenari e credo che per qualcuno alcuni argomenti sono molto già noti, ma per la maggior parte delle persone sapere alcuni meccanismi spiegati in maniera affascinante ti aprono uno scenario incredibile. Quindi non è uno spot al libro, io dico che sono cambiato, e adesso fra qualche anno vedrete, vedrete la dimostrazione. Perché noi siamo in un paese sempre più vecchio, giusto? E in cui viviamo, no purtroppo, di più, nel momento dell'età. Poi il prossimo anno avremo anche, forse, messi 400.000 neopensionati in più, quindi avremo anche di pensionati, non centenari, 100, ma non è perché hanno raggiunto la quota 100. Il libro ci dice come migliorare e forse anche vivere meglio e un po' di più. Il dottor Fusco, Fabrizio, ci dice sempre, preoccupato ogni intervento, perché facciamo sempre meno figli, non so come il sistema pensionistico, Boeri, l'Inps, saranno contenti da questa serata. Però ho fatto anche un altro ragionamento, ho detto sì, è vero, vivremo di più, ma se arriviamo a vivere di più in salute, forse il sistema sanitario ne risparmierà, quindi faremo a medio termine, probabilmente avremo anche un vantaggio da questo punto. Quindi è un libro, io ritengo un libro non solo di grande impatto educativo, ma un libro sociale, politico, perché fare prevenzione a salute è soprattutto questo. Allora, mi ha chiesto il dottor Fusco di presentare la nostra autrice, perché vuole avere lui il piacere, ha detto, di introdurre, e io vi lascio ben volentieri. Però dico che quando ho letto il libro, se non avrebbero un'unica, io ho pensato all'angela della comunicazione nel campo limitato, perché effettivamente mi sono ritrovato nel tipo anche di colloquio. Il dottor Fusco lo conoscete tutti, in parte, tutti i bambini si... Ha un dottore che opera nel nostro territorio, ha avuto anche incariche importanti in associazione culturale, pediatri provinciale, regionale, lui... Però io lo voglio ricordare qui perché, oltre alle sue noti professionali, è un amante della musica, in modo particolare jazz. Gli piace ballare, è una persona di grande convivialità, sono tre caratteristiche inserite nel libro per farvi rendere e restare giovani. Allora, un grazie all'amministrazione comunale che ci sostiene sempre in queste iniziative, un grazie particolare di cuore anche al nostro sponsor di questa sera, la Coppa Alleanza 3, che tutti noi conosciamo, e penso che, a differenza di altre volte, la Coppa stia veramente bene in questa serata proprio per il tipo di messaggio che da anni trasmette, che è mangiare bene, fare educazione alimentare, salute, e anche protezione di quelli che sono i diritti sociali, di chi produce. Quindi, ringraziamo la nostra sostenitrice. In fondo, alla sala, troverete questo libro, per chi volesse prenderlo, e poi farselo anche, penso, autografare. Qui c'è l'autrice. E chi non l'avesse ancora fatto, fosse interessato ad essere informato alle nostre iniziative, e lasciate eventualmente all'uscita i vostri mail. Grazie a tutti. Adesso diamo al nostro assessore Forever Young, vincato, e l'obbligo, il piacere e l'onore di portare i saluti dell'amministrazione. Grazie. Grazie mille. In realtà sono seduto da due gli anni, quindi un po' più di quello che aveva detto di zero. Aspetta, esco adesso da scherma e non credo di essere così giovane, visto che comincia qualche doloretto. Però vabbè, sarà l'alimentazione, forse. Vediamo come andrà col libro. Porto i saluti del sindaco e anche dell'assessore Magnani, che doveva essere qui questa sera, ma è in Inghilterra, per motivi personali. Quindi non ho avuto modo di leggere il libro per prepararmi qualcosa, ma so che il dottor Fusco sarà più che qualificato e più che preparato, come lo era anche Eliseo, seppur ha fatto finta di nulla nell'entrare nella presentazione. Ringrazio Eliana Liotta di essere a Valdagno, è un piacere averla qui. Io faccio solo due piccole riflessioni. Mi sembra che negli ultimi anni ci siamo dedicati spesso, molto, al tema dell'età e allargo il tema dell'età all'invecchiamento, non tanto dal punto di vista medico-scientifico, ovvero, sì, anche dal punto di vista medico-scientifico, ma lo vedo molto di più concentrato sull'apparenza e su quel desiderio di contrastare l'incedere del tempo, che spesso vediamo anche nei volti televisivi e che ci fa capire che insomma a un certo punto sarebbe forse anche meglio arrendersi, per rendersi neanche meno ridicoli, però, vabbè, poi ognuno fa quello che vuole. E l'alimentazione, l'alimentazione viene ovviamente da chi produce cibo e da chi poi lo mette insieme e per il nostro paese quello che l'alimentazione può rappresentare, è inutile dirlo, anche se sembra ridondante, è un settore importantissimo in crescita da molti anni, anche a livello di produzione, mi riferisco all'alimentare, ma che attira sempre di più anche l'interesse di paesi stranieri. Sul Sole 24 ore di ieri c'era un bell'articolo sulla Lulu, che è una compagnia indiana che aprirà un pollo logistico in Italia per servire di prodotti italiani i suoi supermercati esteri. Perché questo? Perché soprattutto all'estero il cibo italiano viene riconosciuto come cibo sano di per sé e quindi anche il valore intrinsico della dieta mediterranea diventa quasi un brand da proporre e esplorare anche per possibilità economiche. Chiudo con una battuta se mi permettete. Qualche tempo fa girava un video su Whatsapp magari l'avete visto dove c'è un signore di una certa età a cui non dovrete dare ascolto assolutamente che dice registra registra dice no dice mangiare dice poco misurato vino dice pochissimo raccomando pochissimo fumare no anche se lui ha il sigaro che pende dal labbro un po' di attività fisica dice non agonistica però continua temo io stesso ecco come era un po' per sdramatizzare e per ringraziarvi della presenza e augurarvi buona serata grazie ancora per essere qui e allora io comincerei con una biografia di Eliana Liotta che voi tutti conoscete ma proprio perché non mi voglio dimenticare niente qualcosa lo leggo proprio per essere più preciso allora Eliana Liotta è giornalista è scrittrice e comunicatrice scientifica ha esordito in libreria nel 2016 con questo bellissimo libro la dieta smart food per chi ha poca dimestichezza con l'inglese smart food sarebbe il cibo furbo e poi magari andremo nel dettaglio è un best seller internazionale che è stato pubblicato in oltre 20 paesi nel mondo dove si parla molto di dieta mediterranea e di studi sulla nutrigenomica la nutrigenomica è la scienza che studia gli effetti dell'alimentazione del cibo sulla genetica le interazioni tra appunto cibo e genetica in seguito a questo saggio ha pubblicato una collana di 15 volumi cibo e scienza per Corriere della Sera le ricette smart food in cui declinava appunto tutta una serie di ricette che si potevano fare seguendo la dieta mediterranea e i cibi smart food scritto poi in collaborazione anche con cuochi certo perché non avrei potuto da sola fare un libro professionale sulle ricette ognuno deve fare il suo lavoro io sono una divulgatrice scientifica potevo controllare all'incirca quello che mi sembrava il gusto di un piatto e la aderenza ai principi raccontati nel libro però un libro che vende tante copie un libro importante deve avere la mano di uno specialista in questo caso era un team di chef lo stesso che ha curato tanti libri di Carlo Cracco e quindi sono gli ingredienti sono giusti i tempi di cottura sono giusti non sono delle ricette fai da te che mi sono improvvisata in base a quello che cucino io a casa nel 2017 ha firmato con il chirurgo senologo Paolo Veronesi che dovrebbe essere il figlio di Umberto o è solo Paolo Veronesi è il figlio di Umberto Veronesi ed è il numero uno della senologia all'OIEO l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano senologo veramente molto bravo molto apprezzato un chirurgo bravissimo con una bellissima mano è anche una grande capacità di diagnosi un bel clinico e poi è anche presidente della fondazione che porta il nome del suo papà la fondazione Umberto Veronesi e insieme hanno scritto il saggio Il bene delle donne che è allo stesso tempo un racconto dell'universo femminile e una guida scientifica sulla salute delle donne Eliana Liotta è stata per se ho letto bene per sette anni direttore del mensile Io Donna Ok Salute Ok Salute quindi invece su perché allora bisognerà dire alcune delle mie fonti che non erano corrette comunque su Io Donna lei Io Donna è il settimanale che esce il sabato del Corriere della Sera e tiene il blog Il bene che mi voglio e questo blog dove scrive ogni settimana e che è sempre piacevole da leggere e ha vinto anche il premio Premiolino che ho scoperto che è il premio più giornalistico più antico d'Italia È vero È vero Ecco Ma non è soltanto giornalista scrittrice comunicatrice scientifica perché per esempio è diplomata in pianoforte e inoltre è anche molto attiva nella vita culturale di Milano dove vive ed è vicepresidente del teatro Arcimboldi e consigliere di amministrazione del teatro Dal Verme tra l'altro sono andato a vedermi le locandine per esempio gli Arcimboldi mi piacerebbe in febbraio visto che c'è il musical Priscilla la regina del deserto che è bellissimo Il teatro degli Arcimboldi è un teatro che fa spettacoli come appunto il musical oppure anche un certo tipo di prosa le commedie i balletti e ospita anche alcuni concerti del teatro alla scala invece il teatro Dal Verme è la sede di una orchestra dell'orchestra regionale Lombarda sono due teatri pubblici quindi io sono lì su nomina del comune di Milano e per esempio nel Dal Verme ho visto che adesso il 17 ottobre c'è una bella serata di jazz con Mario Biondi che è star bellissimo per cui proseguendo è anche latinista e ambasciatrice del certamen Circe Ironianum Arpinas ero latinista mi hai dimenticato tutto devo dire magari mi rifarò con i miei figli al liceo a scuola ero brava ai tempi del liceo adesso chissà se che cos'è il certamen è una gara di traduzione e commento dal latino di un brano di Marco Tullio Cicerone a cui partecipano i ragazzi di tutto il mondo che fanno l'ultimo anno del liceo classico si svolge ad Arpino in provincia di Frosinone nel mese di maggio per cui c'è anche questo in carico e il saggio di cui parliamo stasera l'età non è uguale per tutti è da segnalare che è stato scritto in collaborazione e con il contributo multidisciplinare di tutte le professionalità medici e ricercatori di Humanitas che cos'è Humanitas è un ospedale ad alta specializzazione centro di ricerca e sede anche di un'università la Humanitas University che è un ateneo internazionale di scienze mediche e che è riconosciuto anche dal ministero della salute come IRCCS cioè istituto di ricovero e cure di carattere scientifico e si occupano prevalentemente ma non solo di ricerca sulle malattie legate al sistema immunitario il direttore scientifico è l'immunologo e oncologo Alberto Mantovani che è molto famoso anche al di fuori dell'Italia perché lo dico perché anche in questo caso il fatto che ci sia l'imprimatur di un'università di un centro di ricerca in tutte le asserzioni che nel testo troverete di Eliana Liotta conferma che non si tratta in tempi di fake news che riguardano anche il campo medico pensate appunto all'alimentazione trovate su internet di tutto diete di tutti i tipi le più strampalate trovate affermazioni di un tipo e l'esatto contrario ecco in questo testo ce lo dicevamo non so se avete letto che è stato multato proprio adesso questo Adriano Panzironi con le sue panzane sugli integratori che sarebbero miracolosi Life 120 ha preso proprio adesso una multa dall'antitrust di oltre mezzo milione di euro insomma un po' di pulizia di chiarezza ci vuole mi spiace che debba pagare tanto per un verso però dall'altro è giusto che non si ingannino le persone su un tema così delicato come è quello della salute e quindi passando dalla sua biografia a a noi vi domanderete che cosa c'entra un pediatra nella presentazione di Eliana Liotta allora sono qui ovviamente perché sono amico del Guansi sono qui anche perché sono un buon lettore un lettore forte e come lettore vi devo dire lo ha già accennato Eliseo che il libro è bello cioè non è uno dei tanti pamphlet o libri comunque scritti da medici da nutrizionisti e ne trovate a centinaia su internet e in libreria è molto leggibile vedrete che lo cominciate a leggere vi appassionerà e lo leggerete quasi come un romanzo anche se non è appunto un romanzo ma si parla di temi più più alti e allo stesso tempo più pratici e quindi lo consiglio anche come lettura di libro oltre al messaggio che lascia tra l'altro molto belli anche i box che ci sono all'inizio o alla fine dei capitoli che enfatizzano proprio i messaggi più importanti sono un buon modo per ricordare quali sono i messaggi più grandi di ogni capitolo perché altrimenti l'informazione si potrebbe anche perdere strada facendo richiamarla è utile perché il concetto resta ancora di più sono anche medico e da medico appunto l'ho già detto e confermo anch'io che i contenuti scientifici sono assolutamente adeguati e corrispondenti a quello che è scientificamente provato quindi non si parla di aria fritta di ipotesi di altre cose ma si parla di cose scientificamente provate alcune magari sull'animale sulla cavia e non ancora sull'essere umano però insomma c'è un'evidenza scientifica e Dio solo lo sa quanto in medicina sia importante una corretta comunicazione scientifica noi medici certe volte non siamo così bravi a comunicare e quindi è importante il ruolo di chi fa informazione comunicazione scientifica perché riesce a divulgare quello che noi certe volte non facciamo più fatica a fare però ben venga questo tipo di comunicazione in tempo ripeto di fake news in tempi in cui nell'alimentazione piuttosto che sui vaccini e in tanti altri campi si rischia di avere molta confusione in questo campo è sicuramente sono tutte affermazioni chiare e sicure per ultimo sono qui appunto da pediatra e rivendico il ruolo del pediatra che è quello di fare prevenzione ogni giorno nel nostro ambulatorio noi facciamo prevenzione per cui cerchiamo di trasmettere ai bambini e alle famiglie corretti stili di vita e sono proprio i corretti stili di vita che poi ritroviamo uguali uguali consigliati nell'adulto e nell'anziano e da scorretti stili di vita invece affondano le radici alcune delle malattie del secolo vi faccio un paio di esempi per esempio è noto che i bambini oggi sono molto spesso sovrappeso o addirittura obesi nel Veneto abbiamo la fortuna che sono solo il 30% i bambini sovrappeso e obesi e nel sud Italia si arriva al 50% un bambino su due e il sovrappeso e l'obesità da piccolo poi si porta e si riflette nell'età adulta e anziana ed è la prima causa della sindrome metabolica cioè pressione alta diabete malattie cardiovascolari ictus cerebrali un'altra malattia per esempio è l'osteoporosi se si insegna ai bambini fin da piccoli a mangiare bene a non escludere latte e latticini dall'alimentazione includerli però in maniera corretta non prenderne né troppo pochi né troppi vivere all'aria aperta giocare fare attività fisica esporsi al sole sono tutti dei fattori protettivi nei confronti dell'osteoporosi che però riconosce anche altre cause per cui il pediatra rivendica questo ruolo nel cercare di dare corretti stili di vita fin da piccoli purtroppo forse una volta venivano consigliati di meno forse si dimenticano strada facendo e certe volte ci si trova in età adulta a subirne le conseguenze ed è un peccato non parlo oltre non voglio rubare la scena alla relatrice di questa sera direi soltanto che il libro è fatto di due parti una prima parte più teorica in cui si parla di infiammazione cronica ed inflammaging e so che lei ci tiene a parlare per primo di questa cosa perché è il fulcro primo del libro e poi vedremo magari della seconda parte ci ritorniamo prego allora intanto sono felice di essere qui perché Valdagno non la conoscevo quindi è l'occasione per vedere un paese che ha una storia così importante come Valdagno poi sono commossa dalle vostre introduzioni grazie avete detto delle parole bellissime su di me e sul libro ve ne sono molto grata cominciamo allora con questa teoria dell'invecchiamento che è alla base del libro l'età non è uguale per tutti cosa vuol dire vuol dire che ci sono persone voi lo sapete appunto ci scherzavamo un po' all'inizio sono persone che a 60 anni ne dimostrano 50 viceversa persone che a 35 sono già acciaccate vuol dire che l'età biologica può non coincidere con l'età anagrafica con quella che è scritta sulla carta di identità lo sforzo della comunità scientifica è quello di spostare più in là i paletti dell'invecchiamento biologico in modo da vivere sì più a lungo ma da vivere soprattutto in salute come ci dicevamo cioè da vivere bene gli anni che passiamo su questa terra è possibile quindi dilatare la giovinezza sì gli scienziati seriamente dicono che è possibile lo dimostrano tutta una serie di studi scientifici ma addirittura si può invertire il processo di invecchiamento anche quando sia cominciato possiamo tornare indietro l'esempio che io faccio che è insomma molto molto pratico è quello di un muscolo il muscolo flaccido se io comincio ad allenarlo con dei pesi il muscolo si tonifica si rinvigorisce ecco questo dà l'idea di come è possibile far tornare indietro le lancette biologiche naturalmente poi tutto questo che possiamo vedere sul muscolo avviene all'interno del nostro organismo proprio a livello cellulare ma bisogna capire perché invecchiamo la teoria dell'invecchiamento più accreditata al momento è di un italiano uno scienziato bolognese che si chiama Claudio Franceschi e che ha coniato questo termine che appunto citava Fabrizio Fusco è una crasi dei termini inglesi inflammation e aging quindi l'infiammazione è collegata all'età che avanza perché l'infiammazione gli scienziati adesso studiano le varie patologie in relazione agli stati infiammatori e vedono che questa infiammazione cronica è il terreno fertile su cui si sviluppano i malanni che più ci fanno paura ogni volta che studiano un malanno lì vicino c'è l'infiammazione il tumore sì l'Alzheimer sì il diabete l'aterosclerosi perfino la depressione adesso sembra correlata a stati infiammatori l'assessore ci parlava dell'aspetto estetico ebbene sì anche le rughe sono correlate a un sostrato infiammatorio allora cos'è che dobbiamo fare noi combattere quella infiammazione se abbiamo degli strumenti per gettare acqua su questi fuochi che attraversano il nostro corpo noi possiamo anche sperare di avere una pelle che torna più 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 giovane diciamo con meno rughe e possiamo soprattutto sperare di allontanare le patologie quelle che sono poi anche molto collegate con l'età che avanza esiste un'infiammazione acuta ci salva la vita ogni momento noi non lo sappiamo ma siamo salvi perché in ogni parte del corpo esplodono dei fuochi degli incendi arriva un virus e c'è una fiammata è il calore il gonfiore tipico che vediamo se abbiamo una ferita tutto intorno allora è un segnale del nostro corpo una specie di urlo che viene mandato dalla zona sotto attacco a chi ai globuli bianchi che sono i soldati del nostro esercito del sistema immunitario SOS aiuto siamo invasi fuoco arrivano i globuli bianchi mandano via i virus riparno la ferita e noi siamo salvi alle volte però il fuoco non si estingue come dovrebbe avvenire resta una sorta di brace che se ne sta lì e questo non va bene perché provate a immaginare una brace che avanza da un organo all'altro da un tessuto all'altro a un certo momento avviene un processo di combustione che danneggia i tessuti se io metto una mano sopra una brace ebbene mi scotto quindi l'infiammazione che noi dobbiamo cercare di combattere è questa infiammazione cronica come lo possiamo fare? certo intanto attraverso l'alimentazione ma non solo perché noi possiamo mangiare benissimo tutto quello che si deve mangiare ma se siamo estremamente stressati se siamo troppo soli gli effetti della buona alimentazione ai noi svaniscono ma andiamo per gradi quindi cominciamo dalla nostra tavola perché appunto Feuerbach che citavi dice che l'uomo è quel che mangia l'università di Harvard voi sapete che è l'università di di Boston famosissima in tutto il mondo ha messo insieme gli alimenti che secondo le ricerche più attendibili sarebbero dei pompieri cioè avrebbero delle funzioni anti-infiammatorie sono sei quindi sono cibi e categorie di cibi facili da ricordare sono cibi smart della giovinezza smart perché perché sono intelligenti nel senso che svolgono delle azioni utili magnifiche all'interno del nostro corpo ma sono smart anche perché da parte nostra è intelligente non farcele assolutamente mancare allora questi cibi smart sono intanto i frutti rossi lo diceva Maurizio Martini che colgo l'occasione di ringraziare per questo invito di stasera i cibi rossi i cibi in particolare rossi e blu i mirtilli ovviamente le ciliegie che campeggiano in copertina le fragole le more i lamponi ma perché una fragola arriva dentro la mia cellula e getta acqua sulle bracci infiammatorie come è possibile è possibile e siamo qui alla nutrigenomica cioè al rapporto tra la nutrizione e i nostri geni è possibile perché alla fine del suo percorso questa bellissima ciliegia diventa tutta una serie di pezzettini di molecole che vengono assorbite alla fine della digestione alcune delle molecole delle ciliegie si chiamano antocianine e quegli scienziati sono poeti perché antocianine viene dal greco anthos chianeos fiori blu sono i pigmenti che si schiudono nelle cellule vegetali e danno questo colore bellissimo tra il rosso e il blu a tantissima frutta ma anche ad alcune verdure le antocianine sono delle molecole belle testarde forti audaci scorrono nel sangue e penetrano nelle cellule ma non si fermano nella parte esterna di una cellula che è così è come se facessero diciamo toc toc e riuscissero a entrare nel nucleo della cellula nel cuore e cosa c'è nel cuore di una cellula c'è il dna quella doppia elica che contiene i geni che noi abbiamo ereditato dalla mamma e dal papà è il nostro progetto di fabbrica quindi il dna dice quello che noi dobbiamo essere però attenzione ci sono dei cibi che possono influenzare l'espressione del dna il modo in cui il dna parla possono andare lì e dire ad alcuni geni voi parlate voi non parlate allora dovete immaginare queste antocianine come delle bellissime fanciulle che arrivano nel tratto dei geni piromani quelli che fanno produrre le molecole infiammatorie alle cellule queste bellissime antocianine abbracciano avvolgono in un abbraccio questi geni e facendo così li zittiscono i geni piromani non possono più ordinare la produzione di molecole infiammatorie naturalmente non è che basta una fragola un mirtillo però è lo stimolo continuo che funziona cioè mangiare sempre continuamente questi alimenti insegna di volta in volta le singole cellule a comportarsi bene poi rossi sono i pomodori anche i pomodori sono antinfiammatori sono stati fatti tantissimi studi su questo loro però sono rossi non per le antocianine come le ciliegie ma per un'altra sostanza che è l'anteossidante più potente che ci sia in natura che è il licopene appunto il licopene tra l'altro sembra proteggere gli uomini dal tumore della prostata hanno fatto delle indagini molto molto ampie sulle popolazioni e hanno visto che nei popoli che sono grandi consumatori di pomodori i messicani gli spagnoli gli italiani l'incidenza del cancro alla prostata è più bassa il licopene anche lui fa il percorso arriva nella cellula dna come sta mi leggo a lei ti zittisco stesso discorso stesso rapporto della nutrigenomica il licopene è un'altra di queste sostanze che resiste a qualsiasi cosa allora per esempio un barattolo di pelati comprato al supermercato alla copp o non solo alla copp contiene licopene secondo voi sì no e invece sì alla grandissima cioè il licopene proprio gli fa un baffo l'iscatolamento del pomodoro se ne resta lì la bottiglia di salsa sì attenzione il concentrato di pomodoro nel tubetto sì ne contiene addirittura di più perché quel tipo di lavorazione fa addirittura aumentare la concentrazione del licopene ma il licopene se io cuocio il pomodoro svanisce o resta quindi se mi faccio la pasta con il sugo resta oh finalmente fiducia non solo resta io riesco addirittura ad assorbirne 4-5 volte di più perché il calore rompe le pareti delle cellule vegetali e così il licopene diventa ancora più disponibile detto ciò va bene anche il pomodoro a insalata va bene il pomodoro come ci piace in tutti i modi tutto l'anno possiamo avercelo perché appunto anche le conserve sono a posto da non far mancare mai però è un goccio d'olio sull'insalata di pomodoro sul nostro sugo perché perché il licopene per andarsene in giro ha bisogno di una carrozza fatta di grassi un gran principe lui il licopene deve avere questa carrozza e quindi se no non riusciamo ad assorbirlo quindi i grassi buoni dell'olio extravergine d'oliva sono perfetti anche perché l'olio extravergine d'oliva è una sorta di elisir antinfiammatorio contiene una molecola che si chiama stavolta oleocantale è quella che dà il pizzicore avete presente all'olio nuovo è una cosa importante il pizzicore dell'olio nuovo questa molecola oleocantale ha gli stessi bersagli molecolari dell'ibuprofene avete presente il farmaco quello che uno prende voi voi l'avete presente a voi non lo chiedo e comunque diciamo che sembrerebbe comportarsi come l'ibuprofene 5 cucchiai al giorno sembrerebbero avere questo stesso effetto antinfiammatorio l'olio ha anche tutta una serie di grassi buoni di vitamine insomma non a caso Atena lo dà a Ulisse per rinvigorirsi quando torna a Itaca l'olio è protagonista delle odi di Pablo Neruda insomma è oltre a essere il protagonista incontrastato della dieta mediterranea i grassi buoni che vanno diciamo a oliare i nostri meccanismi si trovano anche nella frutta a guscio pistacchi mandorle noci tutte quelle cose lì che uno no non li devo mangiare perché sono caloriche allora dimentichiamo questa storia delle calorie perché è vecchissima è un retaggio degli anni 80 di quelle diete lì non è che ci si possa abbuffare però voi capite bene che non è la stessa cosa mangiare una banana e mangiare una fetta di carne possono anche avere calorie simili ma la qualità degli alimenti è completamente diversa allora per esempio i grassi che si chiamano saturi sono grassi un po' cattivelli se noi ne mangiamo tanti sono nella panna nello strutto avete presente il lardo degli insaccati la parte bianca la parte bianca della carne il giallo del pollo eccetera l'olio di palma anche quello è pieno di questi grassi saturi il burro ne ha tanti invece l'olio la frutta guscio hanno grassi che si chiamano insaturi e sono buoni perché quelli sono cattivi e quelli sono buoni è l'aggettivo stesso che ce lo dice saturi sono dei composti con tutte diciamo le loro boccucce completamente saturate completamente chiuse e come se ne restano questi composti tutti rigidi così perché sono tutti chiusi non hanno la possibilità proprio di piegarsi di muoversi tant'è che appunto il burro è solido cioè le cose che contengono i grassi saturi sono un po' solide questo grasso saturo che arriva nelle nostre arterie si spalma beato e non se ne va più si piazza arriva l'infiammazione arriva la terosclerosi detta proprio in tre parole è un po' più complicato ma all'incirca va così il grasso insaturo non ha tutte le porticine chiuse ne ha alcune chiuse e altre aperte quindi si può piegare e infatti è liquido allora quando arriva nelle arterie cosa fa? è una specie di cenerentola che si mette a ramazzare i grassi brutti e è così che aiutano i grassi insaturi a tenere per esempio le arterie pulite sono i grassi insaturi delle mandorle sono i grassi insaturi del pesce i celeberrimi omega 3 ecco gli omega 3 sono acidi grassi insaturi che servono tantissimo al nostro apparato cardiovascolare ma che sembrano anch'essi avere un'azione anti-infiammatoria io finora sto parlando di alimenti e non di integratori perché su tanti integratori invece non c'è una evidenza scientifica alcune volte funzionano se il medico prescrive di prenderli ma comprare a casaccio in farmacia il barattolino di omega 3 o la compresse di antiossidanti purtroppo può essere addirittura a volte rischioso quindi il consiglio è quello di evitare di comprare a casaccio e invece di mangiare in abbondanza la frutta la verdura i legumi perché il grande vassoio su cui servire questi alimenti questi sei alimenti anti-infiammatori è la dieta mediterranea e in tantissimi studi risulta essere una alimentazione anti-infiammatoria in sintesi cosa prevede la frutta fresca la frutta guscio i legumi la verdura il pesce non tanti latticini non tanta carne niente è vietato per carità però ecco c'è maggiore parsimonia e i legumi noi mangiamo pochissimi legumi che peccato i nostri avi invece ne mangiavano tanti ecco bisognerebbe riprendere l'abitudine di mangiare almeno tre volte alla settimana i legumi sesta categoria che mi dimenticavo ma che rientra nella dieta mediterranea ha il colore verde verde come le verdure a foglia verde la lattuga gli spinaci le biete le cicorie in alcuni studi uno studio italiano su 11.000 donne dice in particolare è che il consumo di verdure a foglia verde costante potrebbe proteggere dal tumore al seno non è un risultato definitivo però certo il campione è ampio ed è stato fatto all'interno di una grande indagine molto seria che si chiama EPIC sulla dieta mediterranea le verdure a foglia verde vanno bene anche per gli uomini intendiamoci perché hanno queste sostanze che si chiamano folati e sembrano essere questi folati a fare i pompieri all'interno del nostro organismo perché dicevo integratori non tanto invece frutta verdura pochi lo sanno ma la frutta e la verdura hanno le fibre noi vediamo sui prodotti più fibra ma che serve questa fibra no? qual è il valore della fibra la fibra noi non la digeriamo tanto per cominciare quindi se ne va giù allora che dobbiamo fare quando sta sopra nello stomaco fa una specie di pallina che impedisce l'assorbimento rapido degli zuccheri che ci sono all'interno del pasto voi sapete che una cosa da contrastare è l'innalzamento rapido della glicemia degli zuccheri nel sangue perché se no c'è tanta insulina e poi insomma tutta questa insulina porta alla produzione magari di fattori di crescita delle cellule non belle insomma quindi noi dobbiamo sempre stare attenti a che l'insulina non sia prodotta in continuazione con degli sbalzi continui mangiare le fibre intanto già serve a questo a evitare che noi assorbiamo subito tutti gli zuccheri proprio perché è come una specie no? di parete che si crea per cui non passa subito ma deve passare piano piano fa una certa fatica poi la fibra va giù arriva all'intestino e lì nutre questa comunità pazzesca di virus di batteri di batteri soprattutto che abbiamo proprio nell'intestino tutti rintanati là è un posto caldo un posto accogliente noi ci portiamo dietro qualcosa come 1-2 chili di microbi un chilo e mezzo due quindi tantissimo stanno nell'albero respiratorio stanno sulla pelle soprattutto stanno lì nell'intestino se ne stanno con la boccuccia aperta perché questi qui hanno bisogno di mangiare e mangiano quello che mangiamo noi gli studi adesso più importanti su diciamo sulla medicina di frontiera riguardano proprio il microbiota si chiama così perché dal microbiota sembrano dipendere tantissime cose per esempio l'obesità potrebbe avere una radice nel tipo di batteri che ospitiamo addirittura l'umore pensate che hanno fatto un trapianto nei topini hanno messo batteri di un topino in un altro topino c'era un topino stressatissimo agitatissimo è un topino calmissimo hanno fatto uno scambio fecale di microbiota e si sono invertiti i caratteri cioè il topino che era agitato è diventato placido e l'altro che era rilassato invece è diventato un pazzo quindi si comincia a ipotizzare che anche negli uomini possa essere così sono nuovi studi quello che noi sappiamo però è che i batteri che devono essere floridi perché ci aiutano a produrre le vitamine per esempio ci aiutano tantissimo questi batteri senza stiamo male è la flora intestinale no? quella famosa sapete perché si chiama flora? perché pensavano prima che fossero piante i batteri quindi chiamarono questi batteri trovati lì flora intestinale beh resiste perché perché ormai tutti lo conosciamo in questo modo però non si può davvero chiamare quando si è all'interno di un laboratorio flora intestinale con i batteri quindi quindi microbiota le fibre vanno a nutrire tutta questa ampia comunità di batteri loro che fanno mangiano la fibra poi fanno una specie di popò diciamo così batteri questo è molto immaginifico perché i batteri ne mangiano ne fanno la popò però per dire immaginiamoceli così almeno lo possiamo capire mangiano questa fibra fanno la popò e la popò è un balsamo che va a spalmarsi sulle pareti dell'intestino è importante che l'intestino abbia delle belle pareti integre perché se l'intestino si smaglia possono passare batteri cattivi e procurarci dei malanni quindi è importante con la fibra mantenere in salute i batteri la fibra poi serve anche a trasportare le vitamine ecco il motivo per cui sembra più efficace mangiare assumere una vitamina quando è all'interno del suo cocktail naturale perché ha la fibra e non prendersela da sola all'interno di un integratore ci hanno provato in tutti i modi perché sarebbe stata veramente una scoperta meravigliosa isolare l'ingrediente buono di un frutto o di una verdura però finora non si sono avuti grandi risultati non si sono avuti risultati apprezzabili devo dire avete percepito che ha una grande capacità di rendere semplici delle cose che sono un attimino complicate per cui è esattamente come me la immaginavo avendo letto il libro insomma già vi ha fatto un trattato di fisiologia del corpo umano dell'apparato digestivo che è notevole sicuramente è da raccontare anche ai tuoi bambini direi che allora appunto la dieta mediterranea noi siamo così fortunati che abbiamo probabilmente la migliore dieta al mondo in compenso gli americani quella di okinawa non è male la dieta la dieta giapponese e la dieta mediterranea sono due diete che se la giocano è anche il motivo per cui anche i giapponesi hanno una grande aspettativa di vita no volevo che tu dicessi due parole anche sui junk foods cioè sui cibi spazzatura perché sono il rovescio della medaglia abbiamo parlato delle cose buone parliamo anche di quelle cattive ai noi sì perché ci sono dei cibi che sono invece infiammatori ma in che senso una patatina fritta è infiammatoria cioè a occhio noi lo capiamo che è un po' unta che non è proprio l'ideale perché una merendina di farina raffinata è infiammatoria gli insaccati tutta la carne macinata perché hanno elevate quantità di zuccheri oppure di grassi di grassi saturi questi duri così questi che restano gnocchi quando entrano dentro lo stesso tutte le bibite gasate zuccherate eccetera eccetera ma anche i succhi di frutta che non siano al 100% frutta hanno delle quantità enormi di zucchero e tu lo sai bene no lo sai bene il problema è che il sistema immunitario questo si è visto in studi su cavie il sistema immunitario quando vede all'interno del corpo troppi grassi troppi zuccheri ritiene di essere aggredito cioè pensa che il corpo sia sotto attacco come se ci fosse un esercito di virus contro di noi cosa fa il sistema immunitario quando pensa di essere aggredito scatena appunto l'infiammazione allora se io una volta nella vita cioè una volta ogni tanto mangio le patatine fritte perché sono all'aperitivo e se no non mi invitano mai più non è bello non succede assolutamente niente perché siamo attrezzati con questo sistema di fuochi e spegnimenti fuochi e spegnimenti quindi vabbè mi berrò quello che devo bere mi prendo le patatine fritte e sono tranquilla se i bambini vanno a una festicciola vorrai non fare di bere la coca cola o l'aranciata no perché altrimenti vengono messi nell'angolo però se l'organismo costantemente e voi pensate a qual è l'alimentazione di tanti bambini e di tanti adulti costantemente beve bibite gassate e zuccherate mangia le farine raffinate di una focaccia per esempio poi mi prendo la merendina che è anche questa poi mi prendo la cremina ed è un continuo l'organismo produce continuamente infiammazione 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 e non riesce più a spegnerla ecco perché poi si formano gli stati infiammatori cronici a lungo andare niente è vietato ma veramente niente perché nessuna cosa velenosa solamente velenoso sarebbe in commercio quindi non c'è niente da bandire in maniera totale c'è però da fare attenzione con tanti prodotti industriali e lasciare che siano un piacere e che non diventino un'ossessione sì a questo proposito parlavi di succhi parlavi di merendine al di là del fatto che ci sono tutti i grassi allogenati che quindi sono velenosi ma imparare a leggere proprio le etichette del cibo industriale che mangiamo perché troveremo delle sorprese tipo che hanno il doppio delle calorie che ci aspettavamo ma non soltanto perché spesso dentro c'è un po' di tutto sì bisogna assolutamente imparare a leggere le etichette per esempio quando c'è scritto integrale dare un'occhiata all'etichetta non è male perché l'integrale dovrebbe essere la prima farina inserita se io ho farina 00 come primo ingrediente e poi come terzo farina integrale di qualcosa quell'alimento è un alimento di farina raffinata con pochissimo con pochissimo integrale ecco bene continuiamo con questo o passiamo passiamo io direi allo stress o anche al movimento perché sono le altre le altre due cose essenziali da tenere presente l'attività fisica che non è mi metto a fare il triathlon scalo le montagne non so cioè non si intende questo l'organizzazione mondiale della sanità raccomanda il movimento e voi lo sapete la camminata veloce almeno tre volte alla settimana tre quattro volte poi sta camminata veloce c'è uno studio recente che ha quantificato la camminata veloce ma la camminata veloce in che senso cosa devo fare mettermi a marciare cos'è e invece finalmente l'hanno quantificato e sono cento passi al minuto quindi quanti sono dieci passi ogni sei secondi giusto non è non è una roba non fattibile non mi metto a fare qua la scena con il cronometro però se voi volete provare a farlo vedrete che è un andamento davvero non così veloce è chiaro che si tratta di una media allora la persona un po' anziana un po' provata magari ne farà un pochino di meno ne farà 90 e il super allenato invece ne farà 120 130 però all'incirca questo è un parametro perché bisogna muoversi alla fine è come quando dice bevi tanta e beva tanta acqua ma perché devo bere tanta acqua ma io perché mi devo muovere allora devo bere tanta acqua non come dice Di Maio perché siamo fatti per il 90% d'acqua perché non siamo meduse siamo fatti però quando diventiamo adulti dal 50-60% d'acqua questo sì tra l'altro l'acqua contiene il calcio quindi è una arma contro l'osteoporosi per esempio perché è un calcio quello dell'acqua che noi assorbiamo molto bene anche l'acqua del rubinetto quindi va bene è uno dei motivi per cui è importante bere acqua il movimento il movimento serve praticamente a tutto in primis ad allenare il cuore che è un muscolo cardiaco poi serve ad allenare il sistema immunitario quando noi andiamo in palestra per esempio ci procuriamo delle micro lesioni ai muscoli oppure camminiamo queste micro lesioni allertano il sistema immunitario che va lì ripara e poi se ne va ecco questo è un modo per il sistema immunitario di mantenersi bello sveglio e poi di spegnere l'infiammazione quando invece insorge da altre parti il movimento fa bene al cervello quindi non è vera la dicotomia che l'intellettuale sta alla scrivania seduto e il brubru se ne va a fare sport no perché il movimento stimola la produzione dei fattori di crescita dei neuroni cioè delle cellule nervose delle cellule che sono le signore della nostra intelligenza il movimento stimola anche l'osso perché i muscoli che fanno su e giù è come se massaggiassero le ossa e quindi consentono anche una lotta una prevenzione dell'osteoporosi quindi il movimento è importantissimo e poi un'altra cosa i muscoli consumano più calorie della ciccia qui se io ho tanta ciccia e mangio un piatto di pasta purtroppo ci metto più tempo a consumarla che se ho i muscoli ben allenati perché quella parte del corpo è più ha un metabolismo diciamo così più rapido quindi muoversi che noia che seccatura dice questo filosofo cinese che anche un viaggio di migliaia di miglia dice Lao Tzu comincia con un primo passo quindi bisogna prendere la decisione e fare il primo passo il primo passo verso una rivoluzione che è di affetto nei propri confronti perché appunto siamo al volersi bene che è poi l'altra chiave importante come vi dicevo se noi siamo sempre super stressati e non ci prendiamo un po' di relax insomma abbiamo qualche guaio lo stress a livello cellulare provoca infiammazione sapete perché si è visto che lo stress cronico rende vecchiette le cellule le rende senescenti il termine giusto le fa invecchiare una cellula senescente però è una cellula che non muore non si uccide per apoptosi si chiama così a un certo punto se una cellula non sta bene va a morire così si toglie di mezzo viene spazzato via non crea problemi bisogna morire senza senza troppe sofferenze anche nelle cellule è così apoptosi via una cellula senescente no non muore però non campa neanche bene che cosa fa produce molecole infiammatorie siccome poi due oggetti in chimica si influenzano se io ho una cellula senescente qua e una cellula normale qua la cellula senescente dice all'altra toh fallo anche tu e quella scema si mette a produrre molecole infiammatorie e così l'altra e così l'altra e così l'altra ecco il meccanismo molecolare per cui lo stress ci può infiammare lo stress ci può incendiare lo stress cronico perché avere un impegno avere qualche cosa da fare il sale della vita il pepe della vita altrimenti saremmo delle amebe però invece lo stress cronico è quel senso di spossatezza sapete che ci sono delle persone che non riescono neanche a stare tranquille se devono accompagnare il figlio a scuola a preparare la cena o che ne so vedersi con gli amici vanno in palla in paranoia al minimo impegno queste sono le persone che hanno una disposizione d'animo che certamente non le aiuta invece dovrebbero imparare a stare più tranquille lo stress per esempio è uno dei fattori di rischio delle patologie cardiovascolari è sempre strano immaginare che le cose che accadono diciamo nella nostra mente nella vita quotidiana abbiano poi un riflesso molecolare un riflesso sulla nostra salute eppure è così i neuroscienziati sono stupefatti dalle ricerche recenti che hanno fatto su yoga e tai chi tai chi è una disciplina cinese un'arte marziale bellissima fatta da movimenti molto lenti coreografici altre ricerche le hanno fatte sulla meditazione in particolare mindfulness hanno visto che queste tecniche vanno a spegnere proprio i geni piromani hanno fatto le analisi del sangue delle persone prima che cominciassero a fare yoga e dopo tre mesi dopo tre mesi già i livelli di infiammazione nel sangue erano calati moltissimo e perché si riduce lo stress ma è proprio una armonia tra la mente e il corpo che si crea e che va a incidere sui livelli di infiammazione questo non vuol dire che bisogna mettersi a fare tutti yoga o tai chi sono gli studi compiuti finora ma ci danno un indirizzo cioè l'indirizzo è che noi tutti dobbiamo cercare di stare bene con la mente e con il corpo anche cantare per esempio cantare in un coro si è visto che abbasserebbe i livelli di cortisolo ma ad abbassare i livelli di cortisolo che è l'ormone tipico dello stress sono anche a quanto pare gli abbracci hanno fatto questi studi sugli abbracci e sembrerebbero proprio abbassare questo questo ormone che non ci fa bene perché azoppa il sistema immunitario il cortisolo l'altra cosa sono le risate anche le risate abbasserebbero i livelli di questo ormone ma se ci pensate è anche normale perché noi siamo programmati per chiacchierare per ridere per stare con gli altri noi siamo rimasti vivi su questa terra noi specie umana perché sappiamo sorridere dicono alcuni antropologi chi sorride tra gli animali sì gli scimpanze è così però non è una risata vera invece noi sorridiamo e probabilmente è un modo per comunicare che siamo amici io ti sorrido quindi non devi temere nulla da me anzi possiamo essere alleati per combattere quella belva cattiva perché noi non abbiamo grandi artigli non abbiamo una gran corazza siamo un po' fragilini ma è l'unione a fare la forza è il gioco di squadra che ci ha fatto sopravvivere quindi il sorriso è importantissimo hanno fatto degli studi per cui se due persone escono da sole sorridono se già sono tre amiche il livello della risata si alza un po' se un gruppo di dieci amici di quindici parenti il livello delle risate si alza e il cervello ne beneficia in altre parole probabilmente il cervello si è evoluto con questo imprinting cioè sorridere è una cosa buona ed è diventato che il cervello ne ha bisogno per stare meglio hanno fatto purtroppo delle analisi anche sulle persone tanto tanto sole hanno dei livelli di infiammazione superiori a quelli dei fumatori accaniti perché la solitudine infiamma la solitudine fa malissimo e allora ci si interroga poi naturalmente sui nostri anziani bisognerebbe cercare di far loro compagnia di non abbandonarli mai nelle case perché significa certamente farli ammalare il volontariato fa bene non solo a chi riceve un'azione buona ma proprio alla persona che lo compie sono stati fatti degli studi su questo e si innesca una specie di euforia della gentilezza anche questo è probabilmente un meccanismo evolutivo sentirci utili è un modo per stare bene e per far restare giovane il cervello anche la curiosità è un modo per far restare giovane il cervello anche le letture a Maurizio era piaciuto un ultimo articolo che è uscito qualche giorno fa su Iodonna il settimanale del Corriere della Sera per cui tengo una rubrica settimanale appunto i libri i libri sono come punti tra i neuroni perché l'intelligenza è fatta di connessioni tra i vari neuroni allora ogni volta che noi leggiamo qualcosa ogni volta che impariamo qualcosa che andiamo a una mostra si creano nuovi ponti e questo tesoretto ci aiuta magari quando c'è un momento di neurodegenerazione con gli anni che passano potrebbe aiutare ad allontanare le demenze così sembra ecco allora che bisogna cercare di spegnere questi fuochi dell'infiammazione cronica che girano all'interno del corpo da una molecola e all'altra invece bisogna cercare di accendere i fuochi della passione dei sentimenti i fuochi della mente insomma bisogna imparare a giocare col fuoco per restare giovani una sottolineatura sulla lettura perché anche nei bambini è la stessa cosa per cui avviarli alla lettura precoce è un qualcosa precoce vuol dire già sei mesi nove mesi di vita piccolini è una cosa che crea connessioni fra le sinapsi come appunto le mantiene nell'anziano mentre invece ci sono degli studi abbastanza recenti sul bambino piccolo messo di fronte al cellulare piuttosto che al tablet piuttosto che al computer piccolino sotto i due anni di età un tipo di attività di questo tipo distrugge i neuroni distrugge le connessioni quindi un libro in più e una volta si diceva una televisione un'ora di televisione in meno adesso però la televisione non la guardano neanche più ma meno cellulare meno computer meno tutto insomma e nell'ultima parte poi del libro parli anche per esempio dell'importanza di eseguire regolari controlli perché i dottori servono anche per non solo per curare ma per prevenire anche i dottori dell'adulto e parli anche di vaccino allora quello che dice il nostro il video che gira in rete beh in fondo c'è una certa verità allora facciamo così se noi dobbiamo immaginare per quale motivo può venire un tumore 30% perché la genetica ti butta malissimo cioè hai un'eredità una tara e che non ci puoi fare niente un 30% è il puro caso noi noi non piace la fatalità perché noi vogliamo sempre che ci sia una consecuzio che ci sia una causa in effetto alle volte siamo solo sfortunatissimi una cellula si divide male e si crea un tumore purtroppo poi con il tempo come una come una valanga però noi possiamo intervenire sul 30-40% con gli stili di vita cioè mangiare bene attività sportiva non pesare troppo sono quel 30-40% di opportunità che noi ci diamo di scansare il tumore ma anche tutta una serie di altre patologie resta però sempre quest'altra fetta su cui noi non abbiamo un controllo perché appunto siamo sfortunati perché l'abbiamo ereditato perché è capitato in quel caso intervengono gli esami i test i controlli perché arrivare per tempo a scoprire una patologia significa guarire il tumore al seno è proprio l'esempio classico con una diagnosi precoce la guarigione diciamo la soluzione del problema la sopravvivenza a 5 anni è del 98% quindi una percentuale veramente altissima ci avviciniamo al 100% ecco perché è importante seguire il calendario dei controlli che io riporto e ho fatto naturalmente con l'aiuto del capo del servizio check up di Humanitas che mi ha detto quando fare gli analisi del sangue quando andare al ginecologo per una donna quando fare tutti gli screening secondo quella che è la pratica clinica insomma quindi quello è un calendario che c'è sotto mano poi ci sono i vaccini in questo paese si dibatte spesso a sproposito di vaccini soprattutto per i bambini però noi non ci rendiamo conto che i vaccini sono anche per gli adulti che ne so il morbillo se io non l'ho fatto da bambino mi conviene fare il vaccino per il morbillo perché in questo momento in Italia ci sono stati tanti casi ma anche se io non l'ho fatto ma anche se io l'ho fatto conviene andare a controllare se ho 50 o 60 anni perché il sistema immunitario si rimbambisce un po' col tempo cioè perde un po' la memoria quindi non si ricorda più come ha combattuto queste battaglie perché lo sapete come funziona il sistema immunitario no una volta che ha trovato un virus si ricorda come ammazzarlo no un virus un batterio però a un certo punto magari perde la memoria quindi con un vaccino gliela si rinfresca e ci sono poi dei vaccini che sono consigliati sopra i 65 anni io non lo sapevo e me lo ha detto Alberto Mantovani che è lo scienziato più citato nella letteratura internazionale quindi è come se fosse la star il Brad Pitt della comunità scientifica insomma il Brad Pitt italiano della comunità scientifica lui mi ha detto che in particolare agli anziani ce ne sono tre insomma ma uno in particolare ve lo dico è quello per l'herpes zoster cioè per il fuoco di Sant'Antonio non è una cosa letale però è dolorosissima allora uno ha avuto la varicella il virus resta lì il sistema immunitario si dimentica come si combatte la battaglia può avvenire l'herpes zoster che è una cosa dolorosissima invece esiste un vaccino per cui si può evitare questa patologia così così noiosa perché poi se si soffre tanto anche insomma ci si debilita ci si deprime è anche per quello si è impegnativa è impegnativa insomma si soffre veramente ricorderei anche visto che stiamo andando verso l'inverno il vaccino influenzale contro l'influenza che viene consigliato agli ultra 65 anni però non sono poi così tanti mantovani anche nei bambini verrà consigliato mantovani mi diceva già dai 50 perché poi l'influenza è una cosa che può portare insomma a esiti non positivi però purtroppo viene disatteso cioè molti che dovrebbero farlo non fanno lo fanno quindi un invito a vaccinarvi per l'influenza esatto che non costa non costa niente insomma e poi in fondo ci sono tutta una serie di domande smart alle domande risposte sulle belle che sono trovato perché spaziano veramente vedi che ho sottolineato ho studiato vedi vedi no a me piace questa è una cosa molto americana che mi piace tanto però cioè alla fine mettere le risposte alle domande più comuni perché nel libro ci sono delle cose però poi magari restano dei dubbi dei quesiti per esempio lo stress eccetera ma tutti ci chiediamo ma la tensione altera l'appetito cioè se io sono stressato mangio di più effettivamente è così alcuni dicono no mangio di più in effetti sì la tensione può alterare l'appetito ma è la motivazione che è incredibile cioè quando noi abbiamo 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 ansia stiamo male andiamo a produrre l'enzima dell'appetito che è la leptina perché avrebbe anche una specie di funzione calmante quindi noi produciamo una sostanza che ci calma però al contempo ci fa aumentare la fame e poi siamo tentati di andare su cibi che siano consolatori questo per un fatto magari anche culturale cibi consolatori quelli che ci piacciono di più sono quelli zuccherati e grassi c'è niente da fare e quindi come conservare l'olio a casa poi anche delle cose molto pratiche conservarlo a buio perché altrimenti perde per esempio i suoi omega 3 o almeno in una bottiglia di vetro scuro poi c'è il latte la questione del latte il latte è velenoso non è velenoso si può bere da adulti però c'è questa storia che noi siamo gli unici esseri viventi a bere il latte anche dopo lo svezzamento e quindi fa niente perché noi non siamo solo natura siamo anche cultura e talmente siamo cultura che il nostro DNA si è modificato per poter bere il latte anche da adulti e quindi produce l'enzima lattasi che serve a scindere il lattosio cioè lo zucchero del latte anche in età adulta perché circa 10.000 anni fa con la rivoluzione neolitica abbiamo smesso di essere cacciatori raccoglitori e abbiamo cominciato a essere agricoltori e allevatori quindi i nostri antenati hanno imparato a nutrirsi con il latte delle caprette delle pecorelle che avevano in queste tribù a partire da 10.000 anni fa e il nostro DNA si è adattato quindi il latte non fa male né da bambini né da adulti l'importante certamente è non esagerare quindi una due tazze di latte lo dice Harvard che ha fatto proprio degli studi specifici tra l'altro non è che bere tanto latte o mangiare tanti formaggi serve a ridurre l'osteoporosi no bisogna bere il latte il giusto mangiare formaggi un paio di volte alla settimana sempre meglio se siano magri ma l'esagerazione non porta a una diminuzione del rischio quindi questa per esempio è un'altra yogurt hanno i batteri vivi cioè quando noi mangiamo uno yogurt i batteri dello yogurt vanno a popolare il microbiota no perché muoiono quasi tutti nei fuochi degli acidi grassi degli acidi gastrici scusate quindi nello stomaco quindi arrivano quasi tutti morti nella parte intestinale però gli yogurt fanno bene lo stesso tantissimo perché il sistema immunitario vede questi batteri morti va lì per lustra e dice ok morto quindi si allena quindi è un allenamento per il sistema immunitario per cui comunque gli yogurt non vanno a rimpolpare la cosa però cosa? sì ah bene eh esatto no 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 ma invece ma perché per esempio uno dice che l'obesità è quindi è un argomento l'obesità è correlata agli stati infiammatori cioè perché che cosa qual è il nesso il nesso è che il grasso soprattutto viscerale cioè questo addominale si comporta come fosse una ghiandola e va a secernere molecole infiammatorie e ormoni e quindi purtroppo l'obesità stiamo parlando di un sovrappeso importante è correlata a tutta una serie di patologie ecco perché bisognerebbe proprio cercare di ridurre soprattutto quel grasso quel grasso viscerale perché è una ghiandola che che pompa sostanze non nostre amiche come si riduce e come si riduce intanto eliminando tutte le varie schifezze che ci sono in circolazione non è la pasta il problema perché questa è la solita ma la pasta no addirittura hanno fatto adesso una ricerca secondo cui i cereali e derivati allungherebbero la vita di quattro anni all'incirca hanno comparato fanno così sono studi precisi in laboratorio per cui c'è il risultato esatto però hanno comparato gente che seguiva una dieta iperproteica tipo la Dukan gente che invece mangiava regolarmente la pasta e hanno visto che quelli che mangiavano la pasta vivevano alla fine di più è uno studio molto lungo sono anche divertiti di più ma sì come dice Federico Ferlini la vita è una combinazione di magia e pasta e quindi assolutamente sì naturalmente ci sono delle proporzioni Harvard sempre loro gli americani bravissimi invece di questa piramide della dieta mediterranea che non si capisce niente che cosa bisogna mangiare e cosa no hanno fatto il disegno di un pasto sano ma io come devo organizzare il mio pranzo la mia cena velocemente in maniera intuitiva senza pesare senza impazzire mi ricordo di questo piatto sano che è il mio pranzo è la rappresentazione della mia cena a sinistra metà verdura e frutta più verdura che frutta quindi c'è un cosino così frutta e la verdura chi di noi mangia per metà del pasto la verdura figuriamoci tutti lì pronti a comprare la fettina la pasta e alle verdure non ci si pensa mai invece è importantissima perché contiene la fibra oltre a tutta una serie di sostanze tra l'altro se io comincio il mio pasto che ne so con i pomodorini i cetriolini un piatto di lattuga già comunque ho placato un po' l'appetito e mi sono messa dentro la pancia un po' di fibra quindi mi sono già aiutato a evitare di prendere di mangiare tantissimo e a evitare che i zuccheri vengano assorbiti in fretta dall'altra parte ho un quarto di cereali e derivati almeno una volta al giorno bisognerebbe mangiarli integrali poi per esempio a me la pasta integrale non piace con certi condimenti ma la pasta di semola di grano duro del supermercato non ha un indice glicemico alto va bene tutto sommato si può fare non è un problema lo spaghetto ha un indice glicemico veramente basso però la mattina uno che ne so si può fare i cereali integrali con la colazione ci sono i cereali soffiati per esempio occhio all'etichetta perché quelli integrali a volte sono pieni di zucchero invece io consiglio i cereali soffiati che non hanno zucchero niente sono integrali sono per esempio dei chicchi di riso che sono stati fatti come esplodere quelli metti nel latte si ammorbidiscono per esempio sono buonissimi per dire torniamo al piatto sano un quarto cereali integrali vuol dire che io mangio un piatto di pasta oppure mangio una porzione di pane io se mangio una cosa così di pasta ingrasso subito ma la porzione media è di 80 grammi per una signora un po' alla cogliane che non si muove tanto 70 60 però io conoscevo una mia amica che diceva ma io perché non dimagrisco dico ma tu scusami la pasta ah no io mangio 120 grammi di pasta e vabbè auguri scusa no cosa vuoi dire quello naturalmente no però se uno può fare tra l'altro la strategia a pranzo posso mangiare che ne so a cena la pasta ed evito il pane perché così non cado nella tentazione oppure faccio metà pasta metà pane ognuno trovi le sue strategie le patate rientrano in questo quarto perché sono verdure amidacee cioè non è che io mangio le patate come contorno no le mangio come se fosse un primo perché da un punto diciamo di vista nutrizionale anche se sono vegetali somigliano di più a un piatto di pasta che non a un piatto di spinaci quindi le devo considerare in quel quarto una una volta alla settimana non di più nell'altro quarto del mio pranzo ci sono le proteine le fonti proteiche sono ammesse tutte e allora che fonti proteiche abbiamo le uova i formaggi la carne il pesce che ci piace antinfiammatorio eccetera e i legumi i legumi insieme con i cereali danno tutti gli aminoacidi di cui abbiamo bisogno gli aminoacidi sono i mattoncini che formano una proteina una proteina è una roba lunga lunga che è fatta da tanti mattoncini noi abbiamo bisogno che ci siano tutti i mattoncini per poter costruire le nostre proteine legumi più cereali ci danno tutti i mattoncini come se mangiassimo un piatto di carne questo lo dico perché alcuni ritengono che le proteine della carne siano di serie A e quelle dei legumi di serie B non è così i mattoncini sono gli stessi noi ce li prendiamo e siamo a posto ecco questo è un modo velocissimo per organizzare i nostri pranzi le nostre cene e anche per perdere qualche chilo se ne abbiamo bisogno in ogni caso per mantenerci in buona salute splendido io credo che possiamo anche fermarci qui se naturalmente se ci sono delle domande sono gradite risponderà come volete lei mi vuole fare una domanda io lo so no sul licopè eccola lì la prima domanda rompe il ghiaccio buona sera buona sera per le sue informazioni e niente volevo chiederle questo io ho sentito e anche letto che però i cereali messi nel latte come dire uccidono il calcio cioè non è vero lei ha ragione però invece no non è così hanno fatto degli studi i cereali integrali dicono no ma non è così perché poi il calcio se lo vanno a riprendere in una parte finale è un meccanismo molto complesso comunque in verità non è così va beh allora si può tranquillamente tra l'altro diciamo pane e latte dà una bella quantità di una molecola che si chiama triptofano e che serve a costruire i composti della serenità del relax della felicità si ricorda che una volta i nonni mangiavano la sera pane e latte è una grande infatti una bomba di serenità non hai citato la cioccolata come invece hai fatto in articoli il cioccolato il cioccolato fondente perché poi non è che le diete sono tutte punitive eccetera mangiare bene significa anche mangiare il cioccolato fondente al 70% sono questi gli studi che hanno fatto fa bene al cuore regolarizza la pressione per esempio i battiti e poi è un integratore per la memoria è incredibile hanno fatto questi studi per cui il cioccolato è come se nutrisse i nostri neuroni oltre ad avere un potere consolatorio magnifico quando non stiamo bene probabilmente per il contenuto di sostanze eccitanti oltre perché è buono e se una cosa è buona al palato ci fa subito stare meglio anche con la testa il cibo è emotività noi quando nasciamo appunto ce lo dicevamo la prima cosa che sappiamo che impariamo è che il cibo è collegato all'amore della mamma e questo non ce lo scorderemo mai la frutta alla sera in particolar modo per chi ha un indice glicemico diciamo un po' altino non alto ma comunque insomma un po' leggermente borderline ecco si può mangiare perché chiaramente io la mangio molto volentieri anche al posto di qualcos'altro così alla sera allora diciamo che è meglio mangiare la frutta all'interno di un pasto quando si ha qualche problemino con la glicemia con delle porzioni che sono quelle 100-150 grammi ecco in genere è questa la porzione di frutta non c'è problema a mangiare frutta la sera è bene mangiarla ai pasti ma non solo per chi ha qualche problemino così non schizza l'indice glicemico perché se uno la mangia da sola magari ha una botticella di insulina mentre se la mangia all'interno di un pasto con le verdure appunto si frena l'innalzamento degli zuccheri nel sangue quindi alla fine di un pasto è perfetta e poi spessissimo la frutta ha un alto contenuto di vitamina C e la vitamina C aiuta l'assorbimento del ferro contenuto nei vari alimenti del pasto quindi doppiamente sì perché ci dà la vitamina C che è un'ottima alleata del nostro sistema immunitario come sapete e perché la vitamina C ci aiuta ad assorbire più ferro e noi del ferro abbiamo bisogno perché con il ferro si costruisce la nostra molecola del benessere le nostre molecole della felicità quindi è importante anche per quello avere il ferro e qui si aprirebbe tutto un discorso perché i danni anche di certe diete squilibrate perché adesso cominciamo a assistere anche a bambini piccoli figli di genitori vegani o vegetariani e soprattutto in età evolutiva è un disastro perché sono diete squilibrate senza ferro ma senza anche tantissime altre cose in una fase della vita in cui cioè da adulti probabilmente essere vegetariani è una cosa è da una marcia in più magari non vegetariani stretti ma comunque vegetariani con un po' di carne e pesce ogni tanto ma da bambini è un disastro questo insomma hanno fatto degli esperimenti non è detto il problema è che bisogna essere proprio lì col bilancino sapere tutto essere praticamente dei nutrizionisti cosa che spesso i genitori non sono e quindi si rischia effettivamente di fare qualche danno in teoria se un bambino è super seguito vegetariano non ha problemi si assume tutte le proteine dalla frutta guscio dai semi oleosi vegani è un altro discorso perché col veganismo manca in particolare la vitamina B12 che devi andare poi a prenderti con un integratore dare il bambino un integratore insomma non è bello però poi insomma ognuno su se stesso veramente prende le decisioni che vuole quello che vi posso dire sui bambini io sono contraria diciamo perché il bambino non ha facoltà di scelta hanno fatto una valutazione una comparazione tra una dieta vegana una dieta vegetariana una dieta onnivora e una dieta pesco vegetariana cioè con il pesce e poi soprattutto a base di verdure quella più salutare è risultata la pesco vegetariana probabilmente il pesce gli omega 3 che noi prendiamo dal pesce diciamo sono di una qualità migliore rispetto agli omega 3 che noi prendiamo dalle noci oppure che ne sono dall'olio di semi di lino come fanno i vegetariani puri o i vegani e potrebbe essere questo il motivo però si tratta di differenze veramente minime la verità è che bisogna cercare di mangiare alimenti salutari patatine fritte e caipirigna è un aperitivo vegano giusto grazie si discute anche molto sul fatto dell'abbinamento dei cibi mentre invece lei dell'abbinamento per esempio proteine carboidrati quali sono le migliori quali fanno meglio quali fanno peggio cioè la dieta dissociata ecco non 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 sapevo usare questa definizione il problema è che per esempio il glutine che c'è nei nei cereali che noi identifichiamo come carboidrati ma il glutine dei cereali è una proteina che si forma nell'impasto è la componente proteica quindi loro i cereali la pasta ha le proteine quindi non ha senso andare a immaginare di suddividere la carne la sera no quella che sembra invece le proporzioni più giuste quelle effettivamente certificate è questa che vi dicevo assolutamente del piatto sano un nome particolare questa tavola piatto sano il piatto sano c'è nel libro ovviamente ma poi è il piatto sano di Harvard ormai lo stanno adottando anche in Italia perché è il modo migliore di spiegare come seguire la dieta mediterranea a casa propria è più questione di equilibrio nelle donne sì in genere è meglio quando tutti ci sono all'interno di un pasto tutti i nutrienti di cui noi abbiamo bisogno noi abbiamo bisogno delle proteine abbiamo bisogno dei glucidi dei carboidrati e allora se li mettiamo tutti nel pranzo evitiamo poi di arrivare magari troppo affamati la sera e di esagerare con le porzioni di pasta perché se io la sera mangio 100 grammi di pasta con la scusa che a pranzo non ho mangiato però ho uno sbalzo di insulina perché ho troppi zuccheri che mando in giro se invece ne mangio un pochino a pranzo un pochino a cena evito di far sballare i meccanismi del mio corpo c'è un boom in questi ultimi tempi di prodotti non tanto biologici che ormai quella è una moda da anni ma soprattutto di prodotti per ciliegi o non solo senza glutine ma non solo senza glutine io mi ricordo dieci anni fa una nota azienda di Bolzano o Merano che forse vendeva solo in farmacia questi prodotti a prezzo poi stratosferici un malato di ciliechia doveva farsi un leasing per mangiare oggi si trovano anche negli scaffali dei supermercati ma c'è poi un dire soprattutto da parte di molti nutrizionisti o specialisti di molte intolleranze ti fanno questi esami di intolleranze li mandano a Milano a Torino ecco dal suo punto di vista è un business o c'è una verità un business pazzesco allora ci sono tante cose di cui lei mi dà l'opportunità di parlare ci sono tante domande insieme quali sono quali sono i test delle intolleranze non sono quelli per cui mettono degli elettrodi sulle dita e ti dicono non manco so come si chiamano non mi assurdo vegtest vega test cito test sono decine imbroglio non hanno alcun fondamento scientifico infatti la società italiana di allergologia la società italiana di allergologia mette in guardia da questi assurdi test poi dicono a tutti le stesse cose se lei sospende i lieviti per un mese dimagrirà lei sospende il grano lei sospende non hanno fondamento scientifico voglio dire è come se io impongo le mani su di lei dico tu da domani non devi mangiare i fagioli vabbè non c'è senso quindi ci sono invece i test veri per le intolleranze alimentari le principali sono l'intolleranza al lattosio e lo fai con un test specifico da un medico da un allergologo e ti dice se sei intollerante cioè se non hai la possibilità di digerire lo zucchero del latte poi c'è l'altra intolleranza che è la celiachia e tu lì non hai la possibilità di digerire il glutine o meglio è una specie di malattia autoimmune quando arriva il glutine lì nei villi intestinali il sistema immunitario impazzisce e quindi attacca i villi intestinali che si logorano con il tempo le persone celiache intolleranti al glutine non devono mangiare il glutine non c'è un'altra cura quindi per loro vanno bene il riso per esempio che non contiene glutine e poi ci sono tutta una serie di prodotti i prodotti per celiaci quando tu vai a guardare gli ingredienti di questi prodotti spesso c'è da mettersi le mani nei capelli perché sono pieni zeppi di grassi di zuccheri di cose allucinanti parallelamente si è diffusa la moda del gluten free complici i soliti attori dello star system hollywoodiano che per fare notizie ogni volta tirano fuori qualcosa quel bestione di Russell Crowe il gladiatore a un certo punto disse io faccio la dieta gluten free cioè da quando ho bandito il glutine della mia tavola sto benissimo sono in forma sono bellissimo dei muscoli così quindi si è diffusa la moda del gluten free per essere in forma perché il glutine è velenoso ma perché ma che cosa vuol dire ma quando mai le multinazionali cioè si mettono insieme tanti discorsi e ne viene fuori una fake news appunto le famose fake news tra l'altro se tu mangi poi quei prodotti rischia addirittura di ingrassare perché molti non tutti ma molti non sono proprio non rispettano i canoni della della buona alimentazione lo stesso vale per certi prodotti bio cioè se sopra una merendina c'è scritto bio ma cosa me ne frega se poi c'è una quintalata di zucchero o una quintalata di di grassi cioè bio è un'operazione marketing per invogliare il consumatore all'acquisto è un business enorme sul bio poi aggiungo che tutti gli studi fatti sulla bontà della frutta della verdura sono stati fatti sui prodotti dell'agricoltura convenzionale addirittura la frutta faceva bene negli anni settanta quando ancora non era vietato il DDT per dire e già e comunque nonostante quello la frutta risultava ottima adesso ormai i livelli dei pesticidi sono sotto controllo perché abbiamo una gran bella autorità per la sicurezza alimentare che non manda in giro dei prodotti velenosi prodotti bio magari hanno più gusto più sapore magari hanno un pochino di vitamine in più però il prezzo è molto alto e allora io penso che la scienza la buona alimentazione debbano essere democratici se no diventa una buona alimentazione solo per i ricchi prima di giuno di Walter Longo sì allora tutti gli studi recenti sembrano dire che la restrizione calorica e un po' di digiuno allungano la vita lo si è visto all'inizio nei lieviti poi nei moscerini poi nei topi a un certo momento hanno adottato una restrizione calorica del 30% nelle scimmie le hanno seguite per 30 anni e in uno studio storico pubblicato su Science cioè la rivista più importante nel mondo degli scienziati è venuto fuori che la vita si era allungata del 30% insomma nelle scimmie che si erano ridotti anche tutti i problemi della terza età è ovvio gli scienziati dicono se ha funzionato nelle scimmie che sono i nostri cugini vuol dire che funziona anche per noi poi però quando si passa a sperimentare queste cose sull'uomo cambia tutto perché noi non viviamo in un laboratorio in cui possiamo razionare il cibo e ridurlo del 30% tra l'altro in noi il cibo è tanto collegato alla sfera emotiva ok allora la risposta è che non ci sono studi sull'uomo univoci così convincenti da dire se tu fai pratichi il digiuno certamente migliorerai il tuo stato di salute Walter Longo ha fatto un esperimento importante lo ha fatto su 19 volontari tra cui lui 19 volontari non è una folla sterminata di persone tale da poter dare delle regole che valgano per tutti è un indizio molto molto interessante ma non è una regola tra l'altro sono stati fatti studi sul digiuno sulla restrizione calorica sul semidigiuno alle volte per vedere se funzionava contro la sclerosi multipla alle volte per vedere se funzionava in campo oncologico a volte per dimagrire quindi tanti gli obiettivi non si arriva a diciamo un risultato unico quello che di sicuro si sa è che non possono seguire il digiuno il semidigiuno i bambini gli anziani le persone che hanno un qualsiasi problema di salute da soli mai perché si rischia di andare in malnutrizione da una persona che ha una patologia e va in malnutrizione non è che guarisce peggiora giusto almeno che non faccia delle analisi del sangue costanti seguite dal medico allora quella diventa un'altra storia e poi le persone che hanno avuto per esempio problemi di anoressia disturbi psichici psichiatrici con l'alimentazione per loro il digiuno i bulimici eccetera quello di Walter Longo è cinque giorni ogni tre mesi lui l'ha fatto seguiti dal medico sotto stretto controllo medico stiamo parlando di esperimenti certo ma io le sto dicendo un'altra cosa io le dico che noi non possiamo dare delle regole per la popolazione generale quindi bisogna farlo seguiti da un medico comunque è preferibile per un digiuno protratto invece quello il digiuno insomma di cui parlo è quello di una volta alla settimana cioè un semidigiuno cos'è un semidigiuno quello che non fa male alle persone in buona salute quello che facevano i nostri avi cioè mangiare la verdura sostanzialmente con un pochino d'olio un pranzo ipocalorico non è un pranzo di frutta perché quello è un pranzo calorico un pranzo che non va a sollecitare i nostri geni del metabolismo è un pranzo che non contiene né proteine né carboidrati né altro tipo di zuccheri quindi di sole verdure allora lì gli scienziati dicono se tu fai una volta la settimana se te la senti perché appunto non ci sono queste regole precise io di questo mi sono occupata col direttore della ricerca dell'OIEO che è Pier Giuseppe Pelicci quindi lo dico perché lui fa gli esperimenti esattamente su questo abbiamo scritto la dieta smart food insieme e siamo andati a guardare tutta la letteratura internazionale su questo tema quindi glielo dico non perché la mia amica l'ha fatto o l'ha fatto il mio parente ma perché abbiamo guardato tutti gli studi e perché lui che è il direttore della ricerca dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano ritiene appunto che non ci siano studi così univoci da dare alla popolazione delle regole generali si possono fare degli esperimenti su se stessi l'altro esperimento facile diciamo che si può fare è quello di tenere una finestra di 12 ore tra la cena e la colazione questo è un semidigiuno facile facile che ha dimostrato degli effetti buoni si cena alle 8 si fa colazione alle 8 è una cosa abbastanza praticabile sul resto bisogna stare veramente molto attenti quando si divulga sul digiuno perché si rischia insomma di procurare dei danni bisogna stare molto attenti una domanda dal fondo della sala dici Emi no volevo chiedere una cosa lei aveva messo per prima i frutti rossi si mi interessava sapere se deve essere per forza fresco o può essere un frutto rosso disidratato allora è una splendida domanda perché le chiedo un'altra cosa che dopo riguardo agli integratori di vitamine lei cosa ne pensa purtroppo non hanno la stessa efficacia del frutto fresco cioè la compressa di vitamina C è meno efficace della succo di arancia la spremuta di arancia rossa appunto non il frutto ti dà più vitamina C cioè nel senso che l'assorbi meglio la utilizzi meglio quell'altra ce l'ha però tu non riesci a fartene granché è come se la sputassi via quella degli integratori quindi è meglio andare a prendersi le vitamine dalla frutta escluso da questo discorso la vitamina D quella non c'entra la vitamina D i medici giustamente da una certa età la prescrivono perché si va in calo e invece è una cosa importante per le donne che spesso vanno purtroppo in molti casi siamo sfortunate vanno incontro più degli uomini all'osteoporosi e quindi se il medico suggerisce di prendere la vitamina D va presa lo stesso se il medico suggerisce di prendere che ne so l'acido folico prima della gravidanza assolutamente sì quindi non è che valga per tutte le cose e se io vado a casaccio mi prendo una vitamina così non è detto che mi faccia bene per esempio il beta carotene se io esagero mi viene la pelle arancione tanto per dire un effetto collaterale poi invece lei mi aveva i frutti rossi esatto per esempio i mirtilli il succo di mirtilli al 100% mantiene le antocianine deve essere però un succo non concentrato perché le perde un po' il mirtillo spremuto è messo nella bottiglia è conservato dico al 100% perché così non ha zuccheri aggiunti se aggiungo gli zuccheri lo stesso ho le antocianine però mi prendo gli zuccheri che non mi fanno tanto bene le spremute di arancia rossa anche le arance sono antinfiammatorie le spremute di arancia bionda o rossa quelle al 100% che di solito sono nel banco frigo del supermercato anche quelle vanno molto bene per esempio hanno fatto degli studi sulle marmellate che infatti sono consigliate la mattina a colazione anche lì di fragole di lamponi mantengono tantissime di quelle sostanze le antocianine anche gli ellagitanini che sono altre molecole che ci fanno bene oppure per esempio i mirtilli disidratati perché noi siamo tutti con le bacche di goji che vanno tanto di moda però in verità sono ricchissime di queste sostanze che ci fanno bene anche i mirtilli secchi e quindi ogni tanto la frutta secca ci può stare diciamo l'idea è che sia 20 grammi 15 20 grammi in sostituzione di una porzione di frutta ogni tanto va bene anche le prugne quelle nere mantengono le antocianine tra l'altro sono ottime contro la stipsi come sa chi ne soffre perché è una patologia molto 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 diffusa purtroppo quindi la risposta è sì 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 assolutamente sì il congelamento non distrugge le antocianine per cui tutta la frutta di bosco surgelata ma anche se uno si fa un succo e lo congela si mantiene assolutamente naturalmente bisogna sempre guardare la durata del congelamento ma di solito fino a tre mesi hanno fatto degli studi di tecnologia alimentare per cui sì si mantengono in tutti i modi infatti io mi aspettavo quella domanda da te no no effettivamente hanno hanno in abbondanza la quercetina che è un'altra sostanza utile quindi in effetti le bacche di goji hanno delle sostanze utili va bene adesso le producono tra l'altro anche in Italia quindi non è che bisogna neanche importarle dalla Cina che sono sempre lì dove le hanno quindi poi dopo di che a me piacciono di più i mirtilli disidratati però non so poi ognuno può scegliere no siccome poi le bacche di goji costano anche di più di solito insomma eh bene ringraziamo ancora è stata una bellissima serata grazie a voi molto bene grazie a voi grazie a voi grazie a voi